Esperimento con il ghiaccio secco. Praticamente, anidride carbonica ha lo stato solido. Con questo esperimento andremo a dimostrare come l'anidride carbonica, che è più pesante dell'aria, si stratifica nei livelli più bassi del terreno ed è un pericolo per bambini o animali che entrano, ad esempio, nelle cantine. Qui viene dimostrato come si stratifica, ad esempio, in questo lavandino del laboratorio.